SIGLA Chiunque ha vissuto qui è stato vittima di una tragedia. Come sua figlia un anno fa. Mia figlia era tutta la mia vita. Darei tutto quello che ho. Pur di sentire ancora la sua voce. Se qualcuno vuole essere ascoltato... Noi siamo qui. Quella donna ha evocato gli spiriti. E loro hanno risposto. Avete visto ciò che ho visto io? Per una volta ammettete che vi state opponendo a qualcosa più grande di voi. Stasera abbiamo tutti paura. Non possiamo nasconderci dai nostri fantasmi. Che siano reali o no.